Con il presidente avvocato Gaspar Estabile, amministratore del Dento, donazione dei giocattoli nel reparto di pediatria di Marsala Paolo Borsellino. Qualcosa di particolare, emozionante, ma soprattutto che tocca al cuore dei marsalesi e l'avete fatto grazie anche ad un gioco, no? Sì, è stata un'azione diciamo voluta da molto tempo, programmata, organizzata e grazie diciamo agli organizzatori, al reparto, insomma, all'ospedale, ai responsabili diciamo che si occupano della ludoteca, siamo riusciti a portarla a termine. Penso che in questo periodo natalizio, insomma, donare un sorriso, insomma, rendere felici dei bambini che sono ricoverati presso il reparto di pediatria di Marsala sia una cosa, insomma, che tocca un po' il cuore di tutti e noi come circolo culturale abbiamo pensato di farlo. Il nostro augurio è non soltanto donare un sorriso a questi bambini, ma avere, diciamo, la speranza che presto, molto presto possano tornare nelle loro case. Grazie, Avvocato. Andiamo con noi la Presidente Vinci della situazione L'Isola. Donare nel momento, in periodo natalizio, soprattutto in un momento particolare come questi anni, dopo il Covid, cosa significa grazie anche all'associazione Misericolo del Vento? Significa che siamo contenti finalmente che abbiamo aperto queste porte della ludoteca e che i bambini che sono ricoverati in questo reparto possono finalmente giocare. Io sono il clown Pille Palle e insieme a tanti altri clown, ogni pomeriggio animiamo questa ludoteca, quindi non possiamo fare altro che ringraziare le associazioni che vogliono donare, come in questo caso oggi, che hanno donato dei bellissimi regali a bambini ricoverati, quindi grazie di cuore e speriamo sempre nella collaborazione fra le associazioni perché è fondamentale aiutarci fra noi associazioni. Grazie. Grazie all'insfero del Vento, alla situazione culturale e all'isola, il reparto pediatriale è avvenuto qualcosa di meraviglioso, il dono dei giocattoli. Ringraziamo soprattutto la dottoressa Favata, del reparto della pediatria. Grazie intanto a lei. Grazie, grazie a voi di essere qui presenti. Ringraziamo proprio questi ragazzi, i volontari che stanno creando questa realtà che allieta il nostro reparto perché nel reparto non non si parli solo di malattia e di dolore ma anche di serenità, di divertimento in maniera tale che le famiglie, i genitori che accompagnano i piccoli degenti possano in qualche modo vivere questa permanenza con serenità. Quindi vi ringraziamo e siamo orgogliosi soprattutto di essere l'unico ospedale per ora in provincia ad accogliere questa iniziativa, nella speranza che anche gli altri reparti possano accogliervi. Noi diamo testimonianza del successo della vostra esperienza. Grazie. Grazie a voi. Nella giornata dell'Epifania 2023, grazie alla situazione Emisfero del Vento, abbiamo avuto il piacere di poter quindi donare dei regali ai bambini della pediatria del Paolo Borsellino di Marsala ospedale. Grazie anche all'ausilio soprattutto della dottoressa Pinna, la caposala del reparto. Noi diamo il massimo ai bambini, diamo la nostra pazienza e tutto. Ogni giorno speriamo sempre che vada in meglio della loro salute. Abbiamo tanti peripezzi, tanti problemi, però piano piano li affrontiamo con l'impegno e con tanta pazienza.